abbiamo cominciato tre ore fa alle 3 puntuali come promesso e finiremo alle 8 a storra si arriva, a storra si saluta e a storra se ne andiamo va bene? e ti ringrazio perché c'è qualcosa da con RTS quindi ho fatto la stessa pure ci dov'essere il sold out abbiamo sbagliato il giorno ma sarà porfa mia party like a dj come sta andando? questa giornata è scuramente canottiera assuzata, tanti abbracci siamo a parco sempione il polmone di milano poi è bello fare un bagno a party like a dj vedendo di persona quei che ti ascoltano meno tecnica più cuore, questo è quello che voglio lasciare ai posteri viva radio dj, sempre sono rilassato, bevi che fai, lascia solo che ti scioglio, come fanno le boy band, bevi che fai, si regalano una cosa, solo il cuore muovere e bravo ciao dj ma perché non proviamo a creare un'area per i giochi da tavolo, per i giochi analogici ma dica, dov'è che si trova me? è il radio dj, bella beh, guarda, in realtà ogni radio ahhh a baragula vuoi andare a fare hip hop? hip hop ho partecipato a questo gioco che si chiama Drunk, Stupid and Stone è arrivato l'ultimo e io sono già molto felice mi sento un nodo alla gola nel buio balli da sola spazzami via com'è c'è un bellissimo dj set in questo momento sono dj siamo dj mattina portiamo le sfogliatelle l'acca c'è pepe, i supplì al telefono fatti al momento abbiamo messo la porchetta, i panini con la porchetta questa è la condizione a sabato mattina verso l'infinito e oltre te va in giro se sta a te sono un po' in ansia sono il primo a suonare nel primo giorno appunto di parchi like a dj un po' di rumore per dj siamo signori divertiamoci tutti e qua c'è da divertirsi per tutti vi fanno tutte le foto perché dietro c'è la Ferragni e io sorridevo a tutti ma nessuno mi prendeva e no ma noio tra oggi e domani sono molto curioso di vedere tutti gli artisti che piacciono alle mie figlie party like a dj dj state of mind state of mind state of mind ma ricordate algo rock è un selvaggio le canzoni più belle la gente più bella potete fare di meglio sui camerini speriamo che non mi venga un crampo io sono mezzo bloccato con la schiena e l'età che avanza rs api il suo è moderno è radio moderna romagna mia con tanta bec le 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 tirando un po' cale di 10 milioni le sorridi, abbracciarci, fare le foto quindi questo è la famiglia la festa dell'anno, è sempre la festa dell'anno io sto facendo entrare la gente di strappolo voglio far entrare tipo due o trecento persone perché io devo mettere la testa a fondo io sono in mezzo fra Blanco e Elodie che mi piace sia dal punto di vista della scaletta ma anche della vita, mi piacerebbe tanto stare lì nel mezzo è stato da sempre il sogno nel cassè sta bene perché ti sa star bene l'energia della madonna, stupendo facciamo festa tra di noi si piange da stamattina dalla commozione e facciamo festa con chi ci ascolta tutti i giorni invece di comprare i giocatori per la squadra abbiamo investito tutto sulla band il strano non abbiamo badato a spese una bordata di affetto ed è sempre così adesso andiamo finito tutta la radio è lì dietro quindi se avete un telefono preparatevi che facciamo una foto che non farete mai più perché è praticamente impossibile radio DJ on the stage ci siamo tutti? vai grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.